buongiorno a tutti allora volevo farvi vedere la porta eccola lì ho sentito il dolore qua di qua di qua di qua di qua eccola lì la porta come vedete porta da calcio a 5 si stanno allenando i ragazzi intanto perché come al solito mi dicono vieni prima vieni prima che dobbiamo iniziare prima e poi iniziamo sempre alle nove e un quarto vabbè tanto poi siamo qua fino alle dieci e mezza che infatti poi sono mezzo moribondo alla fine perché inizialmente sono bello pimpante poi diversamente giovane comincia a essere stanchino ma fortunatamente mi auguro di non fare vaccate alla alla radu perché veramente sarebbe il colmo comunque mi sono già offerto per sostituire andanovic domenica perché tanto se la partita è come quella di domenica posso sostituirlo benissimo anch'io ha fatto un tiro in porta e quindi posso anche prende ma almeno la vaccata così non la faccio detto questo ciao